Ciao a tutti, oggi puntata speciale di Cuori Connessi, ricordatevi a proposito di iscrivervi al nostro canale YouTube, ci sono dentro delle storie, degli esperti, delle testimonianze dirette, fatti di cronaca, c'è un po' di tutto, una cosa molto viva che portiamo avanti con tanta soddisfazione da mesi. Oggi voglio parlarvi di questo libro, Cuori Connessi, ne abbiamo distribuito in Italia gratuitamente 200.000 copie in tutti i punti di vendita di Unieuro, ne sono state scaricate anche decine di migliaia e questa è una cosa bellissima, dieci storie secche che raccontano storie senza retorica e arrivano dritte non solo al nostro cuore ma anche alla nostra mente, uno strumento importante adottato in tantissime scuole, ma non è delle 200.000 copie che io voglio parlarvi, voglio parlarvi di una lettera che è stata così inviata al direttore marketing di Unieuro e questo ci fa enormemente piacere perché solo fosse per quella lettera valeva la pena di portare avanti questa operazione. Potrà sembrare una cosa romantica la mia, è molto concreta perché aiutare una persona fa la differenza. Ve la leggo, gentilissimo direttore, in questo preciso momento storico le giornate non sono così semplici, leggere o serene, le difficoltà, i pensieri, quelli brutti che fanno venire le rughe e le preoccupazioni sono purtroppo costanti per tutti. Un pomeriggio di quasi due anni fa siamo andati nel negozio Unieuro più vicino a casa nostra per acquistare un articolo ma soprattutto perché avevamo sentito parlare di un libro in collaborazione con la Polizia di Stato che raccontava di storie di ragazzi e di bullismo. Ricordo ancora la cassa in cui abbiamo ricevuto il libro. Lo abbiamo letto in momenti diversi mia figlia maggiore ed io, lo abbiamo scoperto e sofferto, lo abbiamo condiviso e ci siamo tanto parlate e confrontate leggendolo. Ma mai e poi mai avremmo immaginato di dover conoscere quei racconti da vicino e riconoscerci in quelle parole. Mai e poi mai. E invece nel giro di pochi mesi il ricovero all'ospedale Burlo di Camilla, la diagnosi del suo mal di vivere causato da cattivi rapporti con i compagni, forme palesi di bullismo che la stavano spegnendo, con fatica e paura siamo ricorsi alla divisione anticrimine di Udine. Con dolore e lacrime abbiamo raccontato tutto. Attenzione che stiamo entrando nel vivo di questa lettera. Poi con il sorriso invece c'è stato raccontato del vostro libro che noi avevamo già letto. Passaggio successivo, il contatto con Luca da parte della questura. Se non avessimo mai letto il libro, all'ispettore capo non sarebbe mai venuto in mente di darci l'email di quel giornalista che sembrava così lontano e sconosciuto, eppure già così vicino al cuore. Camilla ha iniziato a sentirsi ascoltata, non più sola e soprattutto non più sbagliata, lei. Camilla ha capito che non era vero che meritava la morte come le dicevano i compagni. Confermo, ho sentito quel tutorial in cui viene indicata a Camilla la maniera giusta per togliersi la vita, ma andiamo avanti. Camilla ha scoperto che con le sue testimonianze poteva aiutare altri ragazzi che vivevano la sua stessa situazione. Camilla, grazie a Luca, e io direi grazie al progetto cuori connessi, è Rinata, e noi con lei. Camilla, insieme a tutti noi, quell'inferno lo ha vissuto ma non più da sola. Ci sarà per sempre traccia in lei, ma un giorno non farà più così tanto male. Tutto è partito da quel pomeriggio in cui, alla cassa dell'Uni Euro, abbiamo ricevuto una delle 200.000 copie del vostro libro. Una delle frasi che più ci ha colpito di Luca è stata quando, durante una delle presentazioni del suo ultimo libro, Andrà tutto bene se, ha dichiarato con il suo accogliente, onesto e pulito sorriso che tutto il suo lavoro ha avuto un senso se dopo 200.000 copie una è andata nelle mani di Camilla e l'ha potuta aiutare. Vogliamo che a lei, carissimo direttore, arrivino i nostri ringraziamenti e le nostre parole, poiché tutta la fatica, i pensieri, i dubbi, il lavoro che lei ha fatto ogni giorno fa, siano ripagati almeno sapendo che ha permesso ad una ragazzina di 16 anni di sopravvivere grazie ad una sua scelta. Questa scelta ha cambiato la strada di Camilla e di un'intera famiglia. Anche se non ci conosciamo, ci permettiamo di mandarle un caro saluto e di ringraziarla con il cuore in mano. Camilla, Alice, Barbara e Massimiliano Riva. E adesso, per qualche secondo, vi farò conoscere Camilla, una Camilla che non avete mai visto, una Camilla che ho intervistato la scorsa estate al mare e capirete molte cose nell'ascoltare queste sue parole. Alla prossima! Condividere il dolore è veramente molto molto importante perché solo quando condividi il dolore cominci a essere meno solo, quando condividi il tuo dolore senti che un pezzo del peso che ti sta sulle spalle, sullo stomaco, va via. Non va via subito, non risolve il problema, però è una buona parte.